San Domenico è una chiesa che sorge con il suo convento, una chiesa d'età tardogodica in una porzione del promontorio stricemente esposta a sud del mare. È stata costruita nel XV secolo sull'antica chiesa di Santa Maria della Maina, di cui rimane lo splendido campanile normanno che state vedendo del XIII secolo. Soppressa dai francesi nel 1809, venne adibita in seguito a magazzino viveri delle forze armate. È stata costruita ai fedeli nel 1931, dopo un primo restauro, è stata recentemente dismessa al culto e sottoposta a nuovi lavori di recupero. All'esterno, perché l'interno della chiesa resta tuttora illegalmente occupato. L'interno è costituito da due navate diseguali, di cui una molto alta a cinque campate. Questa singolare, asimmetrica costruzione angioina, in passato arredata da numerosi dipinti, attualmente è priva di ogni arredo liturgico e delle antiche superlettili, fatta eccezione di alcuni reperti tombali sistemati nel vano antistante la sacristia. E ora siamo davanti alla chiesa di Santa Caterina, costruita sul versante orientale del promontorio, nel punto dove già nell'XI secolo, a trapiombo sul mare, esisteva un piccolo convento dedicato a San Chirico. La chiesa di Santa Caterina è parte integrante di quel complesso monastico, con Siscalo del Sanancesi nel 1809 alle donne monache cittecensi, in cui, nella parte più alta, lato mare, funzionava sin dal 1255 un grande faro distrutto nell'ultimo consulitto mondiale. Sì, resta orata nel 1852 la selinando II di Borbone, a seguito dei danni subiti nell'assedio di Gaeta nel 1815. La chiesa attuale, come altre, come vedete chiusa al pubblico e abbandonata a sertessa, conserva una struttura tardogodica angioina ad una sola navata. Tutti i suoi preziosi dipinti, quasi tutti, sono stati da tempo trasferiti in cattedrale. La chiesa di San Domenico è una chiesa tardogodica che sorge con il suo ex convento in una porzione del... No, pura male. Eh perché ho letto, dai, ho portato un passo. Managgia miseria. Non c'è, non c'è, non c'è. Ah, quella. Eh beh, allora sì, sì. La chiesa di San Domenico adesso è costituito... Costituito? Si vede? Siamo invece adesso nella... Siamo invece adesso... Vastancù. Oh, e ora siamo... E ora siamo davanti il convento e la chiesa di Santa Caterina, che è sul versante orientale... Si sente? E ora siamo davanti il convento e la chiesa di Santa Caterina... E ora siamo davanti il convento e la chiesa di Santa Caterina...